Non iscrivetevi al blog di Brian Ciao a tutti e a tutte Benvenuti in questo nuovo video Qui di fianco a me c'è un essere Un essere strano con un cappellino Ancora più strano Chi è lei? Lei è Sofia Del canale Sofia Viscardi Quindi andate sul suo canale Vi lascio i link in descrizione Mi sa che è caduto di lui che è sulla mia schiena Allora vi spieghiamo in breve la sfida di oggi In questi due ricchi ci sono due drink differenti Bisogna indovinare il maggior numero di ingredienti Di questi fantastici Questi favolosi drink Buonissimi soprattutto Sì ma non ce li hai iscritti gli ingredienti Certo che ce li ho iscritti Inizia lei perché è un spito sul mio canale Guarda è veramente non vedevo l'ora Ok possiamo iniziare fino a qui Sì ma sento che arriva il liquido Vai vai E questo cappellino è fantastico Secondo me Ti fa tanto schifo Buonissima Allora c'è l'aceto Esatto Quindi uno indovinato C'è sì E c'è qualcosa di dolce? Può darsi sì Ah stai assaggendo solo le guccioline Sì no mi fa troppo Cioè in realtà non fa così E alcuni sono un po' difficili da indovinare Facciamo che hai tipo C'è un succo Cinque tentativi Devi indovinare quale? C'è un succo È vero Tipo di pesco di albicocca È vero Però ci sei A meno azzecato che c'è dentro il succo Non so perché ho sentito l'essenza di pera Esatto Ok Cioè che non so Ne ha indovinati due Ce ne sono altri Due Da indovinare Oh ma non fa così schifo Come pensavo No questo non è così tanto male Ma è anche l'altro alla fine Eh no non ce la faccio Rinunci Si tratta Allora Metti la cannuccia nell'altro liquido Vai Drink numero due Vai procedi No 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 Non sputare Non sputare Allora c'è l'arancia Qualcosa all'arancia Ok qualcosa all'arancia è Tipo Allora latte Si ma Non è solo latte Latte all'arancia Non esiste latte all'arancia Si esiste a tutti i gusti Abbiamo inventato il latte all'arancia Allora c'è sicuramente frutti di bosco Perché me l'avevi detto Il yogurt Esatto Eh Latte a che cale mandorle No E latte mi scato con qualcosa Ti sto dando un sacco di aiuti Ti dico soltanto te Latte con cosa Ma che ne so Io il latte l'avevo Lei ha avuto un'infanzia davvero tristissima Latte alle squeak Brava Poi Eh Arancia e non so come Come aranciata No Anta No Quanto quanti altri ce ne sono Eh Due No tre Dai però l'arancia me la dai Dai ti do buono l'arancia Ma in realtà è il succo al latte Eh comunque non lo so Cioè non indovino gli altri due Ma come no dai Ci puoi arrivare secondo me Vai Concentrati un po' Assaggia ancora No non l'ho stato Sì tu assaggi ancora adesso Dai muoviti Sofia vai Bravissima E' vero Te ne aggiungo uno Che è quello che hai sentito i pezzettini Era l'uva Era abbastanza riconoscibile No il problema è che siccome sentivo i pezzi Cioè tu hai messo i pezzi ma il sapore non senti Eh infatti i sapori si sono tipo mischiati così Poi C'era anche il ketchup Che ketchup Si era mischiato in qualche modo Ma non credo si sente il sapore E che schifo Questo vi dico Vi dico che schifo Prego Brian Vedi pure Vedi 20 volte Vedi che Che schifo Che schifo Che schifo Pesto Che lo ho riconosciuto subito Il latte Volevi averlo Quei tanto Che coraggio No no Non senti una cosa tantissimo Fortissimo È un beperoncino Non li hai messo E infatti No ma quello lì L'ho sentito ancora prima di berlo E' uno che è fortissimo Però ne ha messo pochissimo Infatti non si sente tantissimo Cioè sentiva più dall'odore Ok Ne 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 manca due Due Sto bevendo solo il pesto praticamente Dammi qualche suggerimento dai Allora Una cosa simile al latte Però un po' più acida La panna No La delfe Tipo qualche formaggio No Guarda quando te lo dico È semplicissimo E l'altro Inizio a sentire il piccante Inizio a sentire E l'altro è strano Che tu non lo stia mentendo Ho messo anche dell'aceto Sì Se ne manca uno Anzi rinuncio perché non ce la faccio Ok Eh lo io amo bianco Ah è vero Lo io ho porto bianco Ne hai messo pure un po' Cosa c'è? Guarda con il secondo drink Sento Comodoro Salsa di pomodoro Sì Che si senti io subito Così che hai messo? L'aceto con lo bianco No No l'olio No aspetta C'è Vabbè dai Te la do buona per aceto È una glassa gastronomica Cosa? Non lo mettiamo fuori È aceto ma è anche dolce Eh infatti si sente tipo che è ancora dolce Vabbè sì Comunque te la do buona Vabbè Grazie grazie Quindi dobbiamo donarli altri cinque Ahah Esattamente Non ci sono Ma il mio non riesco a capire Davvero Eh sono difficili Acidino non lo senti? Sì un pochino Hai messo il limone Hai messo il limone Hai messo il limone Hai messo il limone Poi 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 Mi vuole male questa ragazza Probabilmente Per la sfida assurda Cos'è appunto Tu mi proponisti video E io faccio la cattiva Allora 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 Non riesco Non lo so Io cerco di indovinare ancora uno Poi rinuncio Non riesco a capire Te vi dico In Philadelphia Figa Figa l'ho detto prima Quella di prima non c'era C'era sale Sale Tanto sale Grosso anche Grosso addirittura C'era fino e grosso Ah pure Vuole male Poi c'era Il curry E l'olio Il curry proprio non ci sono arrivato L'olio c'era L'ho detto l'olio No Si l'ho detto quando dicevo aceto L'aceto quello bianco No No l'olio No Olio No Ah no Ma c'è un'altra cosa Che non hai dominato Sciroppo per la tosse È un po' una patta Cioè pari Si praticamente abbiamo fatto pari Perché io non ho messo un po' più ingredienti Dai visto che perdi sempre le challenge Facciamo pari Facciamo pari E quindi vi invito a guardare il video che abbiamo fatto sul canale Andate a iscrivervi al canale perché merita tantissimo Quindi per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Vi ringrazio per aver guardato questo video E ciao a tutti